Il giallo attorno alla morte di Aristide Daino si infittisce, è stato trovato cadavere ieri mattina da un altro pescatore che ha dato l'allarme. Il corpo senza vita del quaranteno originario di Favara ma residente da tempo nella città marinara era in acqua nel porto di Porto Empedocle senza pantaloni e con solo una scarpa. Sono in corso le indagini della polizia, gli uomini del commissariato frontiera di Porto Empedocle diretti dal vicequestraggiunto Cesare Castelli indagano a ritmo serrato. Sono tanti gli interrogativi, quello che si sa è che Aristide Daino aveva da poco fatto pace con il compagno con cui aveva una relazione ad intermittenza. Era andato a dormire in barca, era un esperto in un adatore, figlio di Parombaro. Si esclude il suicidio, non si esclude l'incidente, ma perché era senza pantaloni e senza una scarpa? L'altra scarpa è stata trovata in acqua ma dei pantaloni ancora nessuna traccia. Quello che stanno facendo gli agenti è cercare di ricostruire le ultime ore di Aristide Daino. Pare che sia rimasto in compagnia di un uomo che ancora gli agenti non sono riusciti a sentire. Stanno però ascoltando e scandagliando tutti gli aspetti e le abitudini dell'uomo. Pare che la sera prima sia andato a bere anche parecchio, ma non nel solito bar. Aveva piccoli precedenti legati al mondo della droga, era assuntore e pare che dovesse dare dei soldi a un gruppo di extracomunitari. Proprio con loro, secondo quanto stanno ricostruendo gli agenti del commissariato frontiera, aveva avuto una lite. Sul corpo dell'uomo è stata eseguita l'ispezione cadaverica, nessun segno di colluttazione, ferita, ma è presto per tirare le somme. Si aspetta l'autopsia. Già nella giornata di ieri la polizia ha iniziato a visionare le registrazioni delle telecamere, qualcuna, quelle delle capitanerie, senza ottenere risultati. Poi anche quella di un bar ed oggi visioneranno quella di un altro privato. Grazie.